dobbiamo fare un grande calcio mercato portieri ci abbiamo sto segre 22 anni gueta che questo potrebbe essere sdrogo e rudy sul mercato ci serve un portiere titolare buono poi terzini sinistri ci abbiamo luganezze il trenino cooper te dirò il ts siamo messi bene centali ci abbiamo wright che buono questi questi tre so tre panchinari a rmb del pineo pocus o po anche va beh questo questo è da mandato in prestito e serve un dc buono un dc forte terzini destri ci serve un terzino testo forte rega perché mollura c'ha 32 anni si ritira questo questo a 32 anni si ritira ci serve un terzino destro buono a centrocampo come stiamo messi c'è morici spara palle scioffe il sindaco serve un cc buono pure almeno un cc buono coc rodolfo bizzarro e nakaire potrete potrei di quasi che ci potremmo sta per adesso sinistra solis kawasaki ok dolan questo rimandalo in prestito scivata mandalo in prestito ci serve una punta sicuramente quindi sicuramente dobbiamo vedere se parte o solis o o sasa in caso non partisse sasa prendiamo la riserva di sasa tipo un 78 leonardone bonucci sarebbe da andarselo a sentire è quello che tempo star gioco a me leo mi piace andiamo a sentire lo che ci dice provano a dargli 40 e 200 vediamo che ci dice accettato si stanta ma si è accettato ha detto ha detto sciacquatevi la bocca allora lollo andiamo subito a sentire per lollo quanto vuoi lollo vuoi 60 bomboloni famo famo 60 e 4 e 40 e si e mo andiamo a tratta per stato fenomeno a me piace oh mortacci tua 30 mila euro però vuole 56 vabbè tu li sto io dito andiamo a sentire la legna va sono il cazzo di direx oh mortacci sua vabbè dai vediamo se sta cazzo di legna chi ci avevamo da piare cazzo era pieno dei centrocampisti svincolati boni però basta centrocampi anzi tocca annappia subito salvio vediamo un po che ci dice così andiamo a sapia bass bass ci serve come erpane proprio appena sfornato proviamo a dargli 48 48 e 300 mila vediamo che ci dice accettato oddio mazza quanto core però se abbiamo questo allora avvisciamo mal quit 35 e 3 40 dai chiudiamo veloce su ma male chi si è rotto solis tre mesi porco dio dolan te gioca a sinistra si metti dolan e sti cazzi ma andiamo a sentire per poppa poppa è un bel nome esperienza in premier un bel portiere ti do 19 accettato a posto non c'è informazioni ma voglio subito andare a sentire diamo 20 milioni cash con la 10 di clausola che ci dici 22 milioni cash più la clausola io accetto a me piace dusan dai sta coppetta simula veloce sti cazzi ma stanno a pier turbo cazzo offerta per pizzarro facciamo guarda se ho 13 e mezzo guarda come tu rifiudano stanno tutti con le nazionali sti tumori una a uno capirai trattativa sfumata con musonda offerta per il pino due milioni ma è pure prima questa accetto subito mancava da tratta accetta subito va è quell'offerta per sasa che si può vendere a molto di più mi date 63 milioni e 3 se lo volete 53 e 7 60 milioni me li devi portare cash 56 e 8 potremmo chiudere sui 59 59 se abbracciamo è impazzito nooo ha tiltato ma perchè per 2 milioni di più ma vaffanculo va sto purciata allora vattene a giocare con bebù sto imbecille eh offerta per rmb e offerta per sasa dalla fiorentina allora no rmb ci serve e sasa cazzo che zella lui ha fatto un anno in più adesso quindi il suo valore è sceso vabbè manciavano una lira per piangere vaffanculo porco dio guarda questo me lo tengo sul muso tipo james wildin bla 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 offerta per spara palle dai se tiriamo fuori 6 milioni da spara palle stappa dai spara palle vatta a fangirondo cazzo vivi 5 e 5 se salutamo vaffanculo spara palle allora scioffe un altro turbo esubero dai questo era un tumore mi sta proprio sui coglioni 3 guad 3 vuoi regalo 3 milioni via dai coglioni mi sta sul cazzo perfetto offerta di nuovo per sasa continuano ad arrivare offerte per sasa dall'erta berlino adesso andiamo a trattare con l'erta berlino togli la clausola e mi dai 60 milioni 53 e 7 guarda anzi 56 si abbracciamo 56 si abbracciamo e si ma com'è la prima di campionato contro il cerzi ah si andiamo a sentire per campbell secondo me lui come sub deve laulic guarda che non c'è sta 10 ma noi ci serve in realtà si a noi non ci serve un altro cc perché lollo poi noi lo giochiamo qui a noi ci serve un cc forte mo che c'è penso lì che stiamo messi na merda proviamo a sentire ah si proviamo a me va a fanculo a bonucci porco dio vediamo un po' dolan e 40 milioni a piaccio della mignotta ma chi te sei in c***a fiamo 40 milioni secchi senza dolan sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che non lo danno Fammi la simulazione lenta Non c'ho voglia di giocare Quando c'è il calciomercato non c'ho voglia di giocarsi E niente Porto 1 a 0 subito C'è ancora poche in te Dai schifo ho già capito Bravo lì c'è almeno a messa dentro Rudy venduto Inaccettabile offerta per sbolai Vanno 64 e 15% Riena ma risentiva Ma lui è bello comunque Un bel fischiello Accettato 53 accettato il brodero Ah si ma c'ha 81 Allora Pop, Nets, Bonucci Voss, Bright, Tolisso, Pellegrini Sbolai, Dolan, Vlaulic Salvio vai Vediamo un po' come gioca sta squadretta nuova Sbolai Tocca da gliela Bello sbolai Grande palla per Salvio Salvio, Salvio, Salvio Ma che cazzo la dai Salvio di merda Tolisso Tolisso Cazzo la regolare Sbolai Cazzo non c'è mo' piatto retta Amo dentro però Bello Vlaulic Dusan Si fa trovare pronto Si fa trovare pronto Il giusto Lollo Pellegrini Tolisso Vieni avanti Tolisso Vlaulic È solo Presentate bene Presentate bene Come si presenta Dominic Toretto Si presenta così 2-0 Bright Sbolai Umelo di sbolai Ma che si inventa sto pazzo Fa partire Lollo 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 Vieni avanti C'è una voragine Che palletta per Dolan Intelligente Dolan Il destro Muriel Mamma mia Bonucci Insuperabile Poi Salvio Resiste Palla al piede E vede Dolan Posizione regolare di Dolan 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 Dac A destra va bene Ma a sinistra pure 3-0 Entra Palasios Dolan Anche nella fase Bravo qui Dolan Si riprende un bel pallone Allora Dusan Vieni avanti Dusan Dusan Come le vere punte Come le vere punte Doppietta Di Dusan E Sasa Ormai Un ricordo lontano Doppietta personale Per Dusan Sarebbe Sarebbe da mettere La difficoltà Quella Gioco realistico Campbell Dolan C'è una prateria Per Dolan C'è una prateria Per Dolan C'è una prateria Per Dolan La mette dentro Per Doljan 5-0 5-0 Un Plymouth Senza Senso Quell'altro è che Te giocano con tutte Skill Te fa venire L'Ebola Non stavo a guardare Bayley Accorcia le distanze Il gol Della bandiera L'Ebola 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 Sanno tutti 99 in tutte le stazze Tutte le partite Vabbè sti cazzi Da premiazione Sta coppetta De merda Però simulo il campionato Qua Voglio finire il calciomercato 2-0 Contro l'Everton Molto bene Molto bene Simuliamo col Brighton Sbola Distrutto Zzi Sta in turbo Coma Abbiamo perso Pure 3-2 Porco Dio Andiamo a sentire Che ci dicono Chiediamo 55 Mioni Cash Madonna Simula Veloce Qua abbiamo 4 pappe 2 Oh Offerta Per Ardi Eppure lui Tanto Erso ha Fatto Guarda Vediamo se ci tiriamo fuori 2 milioni e mezzo E via 2-2 50 Dai Parti pure Levati dai coglioni Andiamo a sentire Per il conte Doku Ah zì Posso provare Una cafonata Io ci butto dentro Leonardo Bonucci E 30 milioni Vediamo che ci dice Cazzo Gli piace Bonucci Famo 33 Bonucci Se abbiamo sia Omeragic Che quell'altro Probabilmente Cazzo Accettata Stiamo che pezza Al culo Zia Vediamo che ci dice Duncan Ah zì Non c'ho una lira Per piangere 35 3 40 E si abbracciamo Dai 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 a posto Allora Se andiamo a simulare Sta partitaccia De Carabao Cup Abbiamo pure vinto De poco Proviamo una cafonata Te offra Legna Che ci dici 2 milioni E 3 Se togliamo L'ingaggio Pesantissimo Da legna Secondo me Sto a fare Una cappellata Se c'è Se c'è meno De 75 E' finita Se c'è meno De 75 Impazzisco Io ve lo dico Se c'è meno De 75 Vado fuori Di testa C'è 77 Almeno Tocca fare Un paio De colpacci Finali Vediamo Che ci dicono Per sto Calulù Intanto Allora Guarda Chi te do Brother Che no Voi Daniel Vass Che ne Dici Oh Daniel Vass Semmione Per Calulù Ma Subito Va bene Oh 74 Vabbè Poi ci dobbiamo andare a vedere Dobbiamo togliere salvi Io salvi Non lo sopporto Dici Tutti muoiono quadrati No Matondi Dai ho capito È arrivato il momento Del suo arrivo L'arrivo di Matondo E bro Che ne pensi Di Edoardo Salvio Vabbè 74 21 anni 74 Cassa Zia Dolan Che calciomercato Del cazzo Voglio morire Allora Andiamo S'arri Vediamo La squadra Quindi Luganez Guardiol Wretter Giusto Toljan Tolisto Pellegrini Sbrombo Rombolai Vlaovic Conte Doku Moglio Quadrato Matondo Tolisto Lasciamo un attimo In ebollizione Questa è pure la prima partita Dei Premier Che se giocamo Mi sa Lancio lungo Per vinagre Questi mi sa che Non sbagliano più Un passaggio Sì Retti il giusto È sempre pulito Sbombolai Palla per il Conte 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 Porco Dio Il Conte Tolisto Si ricomincia da Wretter Il giusto Palla per Dusan Tolisto 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 Toljan Sbombolai Finte di Sbombolai 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 Continua a tenere Palla il Conte Doku Tolisto Lollo Sbombolai Un numero Sbombolai Come la Sbombola Sbombolai E poi dice Pronto Mister 50 milioni Pronto Con il numero 10 Pronto Era la palla Per Lollo Pellegrini Sbombolai Bella la palla Per Dusan Il Controllo Di Dusan Che gol Da Bomber Che gol Da Bomber Dusan 3 a 0 Il Plymouth Contro Il The Donker Cerca Semmedo Bella la palla Pop Si addormenta Pop Accorcia le distanze Il Wolfs Bravo Guardiol Palla per Matondo Dusan Resiste All'agguato Vai vai Corri Sbombolà 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 Pronto Vabbè Per Tolisso E finisce qui Distrutti Annichiliti Massacrati Fatti fuori Sbombolà